winteristi ciao a tutti eccoci qua e allora diciamo che me la sono spassata per un po sono in ferie sono in puglia bello bello tutto veramente comunque siamo qui per parlare appunto della situazione che si sta smuovendo negli ultimi nell'ultime ore questa novità però prima di iniziare mi raccomando io vi invito a lasciare il like e a iscriverti al canale si parla di gudmussen una diciamo un tassello ok che ha iniziato prima forse nei mesi di aprile maggio ok di una trattativa dell'inter era su gudmussen ok l'inter aveva praticamente trovato l'accordo con il giocatore che l'inter aveva il dettaglio che era i dettagli con la società genova ma poi poi tutto chiacchiere tutto chiacchiere e tutto chiacchiere tutto fu e niente arrosto praticamente poi è arrivata alla fiorentina ok che ha portato avanti la trattativa ha portato avanti la trattativa ha trovato un'intesa con il giocatore sta diciamo sta lavorando su un'intesa con il genoa però però ancora niente è fatto a questo punto ok stando alle ultime notizie si è inserita l'inter si è proponendo uno scambio proponendo uno scambio ok uno scambio dalla quale ci si toglie io spero che se ne vadano via tutte e due perché veramente è una cosa inguardabile ci si toglie ok dei tasselli che ormai non servono più e tanto meno tanto meno che come posso dire sono inutilizzabili ok stiamo parlando di arnauto e correa allora l'inter sta proponendo questa cosa uno scambio ma attenzione però attenzione io non sto qui a fantasticare dicendo cazzo ci stanno riuscendo la nana nana no signori no signori io dico sempre una cosa sola io dico ufficiale quando quando ok presenta la maglia dell'inter alla presentazione perché neanche durante neanche durante la visita io ci credo perché può succedere sempre succedere qualsiasi cosa le trattative le acquisizioni dei giocatori alle volte sono imprevedibili imprevedibili stavo dicendo l'inter sta proponendo questa cosa qua uno scambio uno scambio è da quello che ho capito forse anche un piccolo conguaglio anzi no uno scambio da quello che ho capito comunque c'è un diritto di riscatto c'è un diritto di riscatto un prestito con diritto di riscatto ok e Genova pare che sia più propenso ad apportarsi a casa uno come Arnautovic che correa perché piace molto a Gilardino ok però c'è un fatto c'è un fatto ribattiamo sempre sul discorso che la Fiorentina è molto avanti con il giocatore ed è praticamente sta cercando di trovarne un'intesa con il Genova ok però non è da quello che ho sentito non è una cosa distante c'è questa cosa qua c'è la Fiorentina che secondo me che secondo me che secondo me è una cosa molto molto difficile è molto molto difficile perché lo stesso lo stesso come come si chiama l'amministratore delegato del Genova Vasquez non lo so lui ha detto cederemo 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 solo per un giocatore che porta competitività al reparto offensivo io mi sono detto uno come Arnautovic che deve portare che deve rendere il reparto competitivo secondo me la cosa non avverrà però ripeto le mie sono solo idee attenzione sono solo cose sono logiche ok la cosa secondo me sarà molto molto difficile sarà molto molto difficile lì c'è proprio il giocatore che deve dire completamente no alla Fiorentina deve volere assolutamente l'Inter ok deve andare dal presidente e dall'amministratore delegato va a scherzo a dire ascoltate io voglio andare via ho l'opportunità di giocare sull'Inter con l'Inter voglio andare a giocare a Milano forse dico forse in quella situazione qualcosa ok magari i dirigenti ok il presidente e il presidente del Genova forse apre le porte vabbè figlio mio vuoi così vai in pace vai 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 forse questa è la cosa che potrebbe sbloccare ma a vederla un paolo uno scambio alla pare ok come viene detto tra Arnautovic e Gudmundsson quando poi c'è il l'amministratore delegato che viene a dire noi ok cederemo Gudmundsson solo se arriva un giocatore competitivo per il reparto d'attacco e Arnautovic ripeto a dire è quello che è cioè l'anno scorso ragazzi cosa cacchio ha giocato avrà giocato tre quattro cinque sei partite è stato più fuori che dentro dove sta l'essere competitivo nella fase offensiva ditemi voi ditemi voi comunque ragazzi staremo a vedere staremo a vedere cosa succede io ripeto dire io dico ufficiale quando c'è la presentazione con la maglia ufficiale nel club nella sede nella sede dell'Inter prima per me sono tutto a fumo e niente arrosto comunque se il video vi è piaciuto ok lasciate il like iscrizione al canale arriviamo presto a 1600 iscritti è tutto gratuito ragazzi 1600 iscritti non dovete pagarmi niente iscrizione e lascia il like un abbraccio a tutti e vi auguro una splendida serata ciao